Grande successo per i laboratori artistici che si tengono da inizio maggio presso la Casa delle Attività a Valle Noncello, edificio completamente restaurato dal degrado e dall'abbandono, che oggi può definirsi un piccolo diamante per la comunità. Quattro laboratori gratuiti sul disegno dal vero, sulla tecnica della carta pesta, sulla grafica pubblicitaria e la land art, che coinvolgono con grande entusiasmo persone di ogni età, da studenti a insegnanti e persone non più giovanissime, ma che hanno voglia di conoscere nuove tecniche. Nella Casa delle Attività ha sede uno dei quattro centri giovani di Pordenone, che viene gestito in coprogettazione con il settore delle politiche giovanili del comune, dalle cooperative Ascaretto, FAI, Opera Sacra Famiglia e Another World Foundation. In un paio di mesi dalla sua apertura, il centro ha già attirato una decina di ragazzi, desiderosi di fare qualcosa di costruttivo e di conoscere nuovi amici. Danza, teatro, musica, arte e soprattutto una montagna di idee e progetti che i ragazzi vogliono proporre per poter realizzare nuove attività. I giovani stanno sempre meno fuori, comunque interagiscono sempre meno tra di loro, sono più concentrate sui videogiochi o cose futili, piuttosto che uscire e interagire con i coetanei. E quindi il nostro obiettivo è quello di cercare di unire i più giovani possibili, con le loro diverse passioni e che possa comunque incentivarli a coltivare i propri sogni. Ad esempio, io che sono sia un cantante che un ballerino, la nostra idea era qui appunto di piazzare degli specchi in modo da permetterci di provare, di fare in modo che non sia il classico centro giovani o la classica struttura, ma che sia proprio un qualcosa che si distingue da tutti gli altri. Anche io, come il mio amico, sono un grande appassionato di musica, però io non mi occupo né di ballare né di cantare, ma più della parte tecnica. E infatti una nostra idea, visto che comunque nella zona di Pordenone questa cosa vediamo un po' che manca, era di istituire dei corsi di formazione per appunto queste professioni, perché alla fine sono dei veri e propri lavori. E a noi appunto piacerebbe portare questo progetto nel centro giovani in modo da farlo risaltare tra tutte le strutture e dire che il centro giovani di Valenuncello è il migliore. Promuovere il protagonismo dei giovani, rispondere alle loro esigenze, quando sono in linea con la volontà di far crescere la comunità, di stare meglio insieme, di non parlare loro solo negativamente, ma al contrario, grazie a queste attività, farle partecipare alla nostra comunità, è un obiettivo che il Comune si è prefissato da tempo. Attraverso la riqualificazione di immobili che erano completamente abbandonati, diamo spazi per fare in modo che la loro creatività, la loro curiosità e il loro impegno possa essere messo a frutto. Questi erano dei ruderi, adesso è la casa dell'attività, che è in piena attività. Si sono recentemente svolti 18 incontri, 4 corsi da arte, design, grafica pubblicitaria, che hanno fatto incontrare giovani e meno giovani. E in più è diventato un punto di riferimento spontaneo anche per i giovani. Raccoglieremo le loro idee, i loro suggerimenti, per sviluppare ulteriormente questo centro, che è già di fatto un punto di riferimento per il quartiere Valenuncello.